Parliamoci chiaro eh E non era una battuta No non era una battuta Ma signore Ma non dici nessuna ticcia ma che schifo Levate ste cazzo di occhialini così per farti cruciverba stronzo Ma sono bravissimo il cruciverba Beeeerda Passate le mani Ha uscito la pistola Grave errore Scusi Roccia tibia capocciate da qua Oddio Ok possiamo andare a prendere qui Sì sì No 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 qual è la frase Versaglio Dillo 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 Oh no Oh no Oh no Oh no Che cazzo fate Questo sarà il punto dove Quando ipoteticamente un giorno vai per avere un ragazzo Quando lui scenderà dalla scalinata Noi faremo così Amore ti aspetto Le mani non dico altro La tua figa No la mia vita Apri 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 Oddio Un attimo un attimo Dio che dolore Dio che dolore Oddio Cazzo vai Non si può Ah Ah bene hai detto che sono stronza oggi quindi rilealista Non devi essere obiettivi No io no io no Eh io sì Ok siamo scherati che questi Aspetta 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 vicino le polizie Speriamo un colpo Vabbè vicino le vicine Siamo noi Si è buttato la tazza di maniera Ma che fai Ma che fai Ma che fai Sarebbe stato bello se uscipa il distintivo e quelli la mi investivano Gallaghan Amore mio Ma lo so ma è diverso Ma guarda che sono sempre pattuglia con le riega Gianca Oggi 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 Oh Aiutami cazzo Si è bloccato Porca troia Non prendo il buretto vero Non prendo Perfetto No 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 franchino 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 Ti prego ti scongiura Allora franchino ti spiego una cosa No franchino franchino E Martina è a terra No vabbè raga Come Martina Mamma mia No vabbè raga No vabbè raga I coglioni Non commento Vabbè è quella di Intanto avvisare di non toccare la macchina No vabbè No vabbè raga ha un problema tecnico non è possibile che ti sei asseccato a terra ma che ci facciamo qui sopra un altro latino un altro latino un altro latino brasiliano una raffa uorzonata uorzonata del merda ma che cazzo ma potevo fare fino a 5 anni l'ostaggio quando esce fuori tutto il controllo? si chiedo i documenti questo non l'ho mai fatto però ok allora ma l'ho preso in testa ma non è vero ma è uscito il sangue dalla fronte dalla fronte non è vero ma non è vero mai nella vita l'ho preso due volte qui 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 qua ecco lì sono arrivati usate l'oltre è un maniaco ci divertiamo in cielo che cazzo vieni oh ecco l'ho dici che stanno bene ma dove cazzo vai vieni qua dove cazzo scusami è che io batto forte batte forte sempre ciuff ciuff ragazzi grazie a tutti per partecipare ma puoi mai collega ma è stata strada no non ti azzardare si è capita alzo le mani alzo le mani si è mutato non per la radio alzo le mani alzo le mani alzo le mani si è mutato si è mutato si è mutato grazie dottore oh che destra morto oh come va ma che cazzo mi sa che c'è qualcosa di sbagliato in questo script è la coca ma che coca la coca cola ah no non so perché l'altra si no ma so dove trovarla sai dove trovarla si come? eh non c'è sempre no come dai c'è almeno capito no almeno ci sbagliamo un po' è capito esatto non c'è neanche da bere almeno vediamo i demoni quando non ci sono esatto o magari riusciamo a vedere i demoni mentre che sono invisibili comunque si è si ho impennato ma capita non è una cosa di tutti i giorni oddio ma l'hai visto quello che mi ha impennato? chi? sto cazzo ok l'odore è buono puttana eva oh ma il culo ci trovano sempre così l'aspetto oddio è morto è morto è olaf è morto via questa blu perfetto rubata ma non ce la presti te la spaccherei guarda mia c'è neve ahhh con le carici non funziona oh cazzo che è passato che è infatti no questo è dei infatti in notizie oh cazzo no questo è i occhi o no n cazzo Grazie.